quanto cavolo no vabbè ora non ce l'abbiamo davanti casa la molla dentro mettiamo anche un dancio per sicurezza quello che è successo è molto strano il leone è uscito le dinamiche sono ancora c'è un'indagine in corso perché non è molto chiara possiamo solo dire che un leone non ha la capacità di aprire un chiavistello e rompere un lucchetto bene, grazie allora dicevo che facciamo un'inquadratura alle 11 in cui non penso nemmeno che parlerò io facciamo è un dato famoso non piacere il leone sta benissimo è quello lì che dorme con i fratelli ieri ha ricevuto anche la pappa perché logicamente stando fuori non sapendo se magari aveva mangiato qualcosa anche un'erba che gli poteva far male l'abbiamo tenuto 24 ore a digiuno però sta benissimo no, non ce l'hanno no, non ce l'ho